Ci colleghiamo con il sindaco di Torchiara Massimo Farro per fare un aggiornamento sulla situazione attuale nel comune. Sindaco ben trovato, 5 giorni fa lei ha fatto un comunicato sulla pagina istituzionale di Facebook annunciando ai cittadini che purtroppo anche il comune di Torchiara ha riscontrato dei casi di positività al virus. Vogliamo aggiornare delle spettatori quindi ai cittadini di Torchiara soprattutto come procede nel vostro comune per quanto riguarda i contagi? Salve innanzitutto buonasera a tutti. Allora i contagi sono sotto controllo, abbiamo un lungo periodo di fri, purtroppo abbiamo avuto dei contagi con come dicevo nel comunicato quattro famiglie coinvolte da contagi provenienti da fuori comune ma questo è relativo. L'importante che sono stati segnalati grazie all'efficienza del servizio di prevenzione dell'ASL di Agropoli, di Stretto, la dottoressa della PEPA, il dottor Ciccullo e così via e quindi abbiamo provveduto a ricostruire la catena e a emettere ordinante di isolamento fiduciario delle persone positive e delle persone non positive conviventi con chi è positivo e quindi per il momento la situazione è sotto controllo quindi c'è stata questa piccola impennata che sembra sta rientrando con un paio di persone che si sta allungando un po' più del previsto, altri sono rientrati, abbiamo effettuato dei tamponi di verifica da premettere che il comune di Turchiara ha acquistato a proprie spese dei tamponi che sono stati messi a disposizione del servizio delle analisi dal dottore Ametrana di Agropoli e quindi noi effettuiamo i tamponi dei nostri cittadini immediatamente, anche quelli di verifica per avere la certezza e la sicurezza della possibilità o meno dei soggetti a rischio. Quindi abbiamo effettuato anche dei tamponi oltre a quelli fatti dall'altro nei tempi previsti dalla normativa, dei tamponi di verifica appunto per accertarsi del perdurare o meno della possibilità. Quindi la situazione non è grave, è sotto controllo, questa è la cosa che mi sento di dire ai cittadini di Turchiara e ai paesi limiti, riusciamo a tenerla sotto controllo grazie alla collaborazione soprattutto dei cittadini, quindi invito tutti al rispetto delle normative, quindi del distanziamento, della mascherina, di quelle norme che ho ormai da più di un anno conosciamo benissimo perché bisogna stare sempre all'erte. Né un esempio l'incendio che si è acceso immediatamente nelle festività pasquali nei paesi limiti, quindi siamo tutti nella stessa barca, Turchiara e paesi limiti, quindi non è che Turchiara è il superiore o migliore di altri paesi, quindi bisogna fare unione e combattezza per difenderci e sconviggere questa pandemia. Sindaco, è bene ricordare anche che la sua amministrazione si è attivata la scorsa settimana per vaccinare più di 40 persone non neambulanti proprio nel comune di Turchiara con una squadra di medici dell'ASL di Salerno che sono giunti proprio nel suo comune per effettuare questa grande operazione riguardo i vaccini. Continuerete insomma con le vaccinazioni oppure avete terminato? Per quanto riguarda i non deambulanti mi riferisco. Sì, la ringrazio della domanda. Sì, abbiamo il giorno lunedì, non ricordo adesso. No, venerdì scorso, grazie al servizio di prevenzione dell'ASL, del servizio di l'aslamento inferiore, grazie alla disponibilità e alla professionalità del dottor Buono, responsabile del servizio di prevenzione dell'ASL Salerno, sono venuti due squadre di vaccinatori ad effettuare 49 vaccinazioni sul territorio del comune di persone inambulabili e relativi conviventi. Quindi abbiamo messo in sicurezza una grossa, la fetta più pericolosa, secondo me, della popolazione, persone anziane o persone non anziane, ma anche persone giovani, che hanno gravi patologie di ambulatori, ma non solo di ambulatori. E quindi, anche dal punto di vista, quindi, questo è stato un ottimo intervento, grazie, ripeto, alla disponibilità dell'ASL e del dottor Buono. Hanno effettuato il vaccino moderno alla prima dose, effettueranno il dichiamo tra 28 giorni, il 14 maggio, se non ricordo male. Stiamo valutando se sul territorio, stiamo coinvolgendo anche i comuni limitrofi, ci sono altre persone che hanno questa necessità, sperando di ripetere l'operazione non soltanto per il territorio del comune di a chi gli possa stare vicino per registrarli, per accompagnarli ad Agropoli. Posso dire che, grazie ad Agropoli, che ha istituito il centro vaccinale, quindi l'operazione sarà molto più facilitata nella realizzazione, perché con l'apertura del centro vaccinale di Agropoli distaccato dal distretto, riteniamo di poter effettuare con più facilità e con più tempisti questo tipo di intervento. Quindi, da questo punto di vista, ripeto, ci tranquillizza, perché, le ripeto, a noi ci coinvolge anche moralmente questo aspetto, perché io mi parlo come amministratore, ma penso di esprimere il sentimento di tutti i miei colleghi. C'è anche un aspetto morale che ci tocca tantissimo, sapere che il nostro concittadino è positivo in quali condizioni e non riuscire a fare poco o niente ci tocca tantissimo. Quindi bisogna capire le difficoltà di un piccolo comune, le difficoltà degli operatori medici sanitari e non sanitari nell'effettuare le vaccinazioni, perché questa è un'operazione imponente. Vaccinare tutta la cittadinanza, vaccinare tutti i cittadini non è semplice, con tutte le complicazioni che ci porti. Io capisco la rabbia, lo sconforto, il disappunto dei cittadini. Ci mancherebbe, ci sta tutto. Però dietro c'è il lavoro, il sacrificio, l'impegno di tante persone che non va disprezzato e non va tenuto nel debito conto. E allora la comunità di Torchiara, che in questi ultimi giorni ha vissuto un po' momenti di attenzione, vuole lasciare un messaggio prima di concludere la nostra intervista? Sicuramente, di stare tranquilli. Io chiedo soltanto ai miei cittadini, ma a tutti quanti, di rispettare le norme che conosciamo benissimo. Le scuole sono in sicurezza. Tutto il personale, sia insegnante, sia il personale è stato vaccinato. Le aule abbiamo provveduto ad ampliare gli spazi, quindi c'è la distanza dovuta tra un bambino e un altro. Gli insegna io con la preside e con la referente scolastica, già aggiorniamo ogni giorno su qualsiasi piccola voce che giri nel paese, di qualsiasi tipo, per stare attenti. Quindi su questo posso garantire la professionalità di tutti e quindi nel rispetto di chi ci opera e dei bambini innanzitutto. Chiedo ai genitori, oggi abbiamo, dando un segnale, provveduto ad aprire la villa comunale, perché vogliamo che si ritorni alla normalità. Però chiediamo ai genitori, soprattutto per i ragazzi, stiamo rubato, stiamo rubando il periodo più bello della loro vita, soprattutto io penso ai ragazzi che vanno nel liceo, ai ragazzi che vanno alle scuole medie. Di piano piano di rientrare nella normalità, però sempre con quell'attenzione e quella prudenza che ancora il periodo ci impone. Se riusciamo, noi a Turchiare siamo arrivati al 27% dei cittadini vaccinati, ritengo sia un'ottima percentuale. Se per l'estate riusciamo ad arrivare a quel fatidico 70%, potremmo stare più tutti più tranquilli, soprattutto per i nostri anziani, per le persone più deboli, a cui dobbiamo sempre porre attenzione. Perfetto, Sindaco. Noi la ringraziamo per il suo messaggio ai cittadini, soprattutto di Turchiare, per aver fatto anche chiarezza sulla situazione attuale che si sta vivendo proprio nel suo comune. È un in bocca al lupo a tutti i suoi concittadini che purtroppo sono stati colpiti dal virus. Speriamo che possa terminare in fretta. La ringrazio e un saluto a presto.